L'intera nazione è sotto shock, 631 ragazzine tra i 12 e i 16 anni particolarmente vulnerabili, sistematicamente violentate negli ultimi 5 anni da una gang di maniaci pedofili di origine asiatica che le prelevava da centri di accoglienza per minori nella zona di Liverpool. Gli stupratori sono 8 pakistani nati nel Regno Unito e un afgano, di età compresa tra i 22 e i 59 anni. Le vittime tutte ragazzine bianche, britanniche, con problemi sociali e familiari. Venivano adescate con cibo, sigarette o carte di credito telefoniche e quindi drogate, ubriacate e poi trasportate in giro in appartamenti nel nord dell'Inghilterra, violentate e vendute. Due di loro sono morte in seguito agli stupri. Durante il processo svoltosi a Liverpool, nel quale i criminali sono stati condannati ad un totale di 77 anni di prigione, sono emessi particolari raccapriccianti. Ma anche i clamorosi errori di polizia ed assistenti sociali, che nel 2008 non credettero alle parole di una ragazza che ebbe il coraggio di denunciare la violenza subita. Erano terreno di caccia perché non appartenevano alla vostra comunità e religione, ha detto il giudice e gli imputati leggendo il verdetto.